Siamo qui con Omar Pedrini a Bari per un concerto spettacolo insieme ad Alessio Boni, come nasce questa collaborazione? Questa collaborazione nasce da un'amicizia, due amici che non si vedono mai, che siamo io e Alessio, nati a pochi chilometri di distanza separati da un lago, dal lago di Seo. Io ho nato nella sponta bresciana e lui in quella bergamasca, quindi abbiamo abbattuto ogni rivalità e abbiamo detto per stare un po' insieme dobbiamo inventarci una tournée. E Alessio con Nina Verdelli, che ricordo, giornalista, ha scritto questo spettacolo che ha conquistato davvero tutti, siamo partiti da Napoli, Salerno, poi a Milano, abbiamo fatto tre giorni di pienoni, perché credo sia uno spettacolo molto originale. Sì, stasera a Nardò e domenica a Bitonto, vicino Bari. Omar, tu tornerai a Bari il 15 novembre, che tipo di spettacolo porterai? Certo, come ben sai, non possiamo nascondere la nostra amicizia. Il 15 novembre sarò al Garage Sound per una serata acustica, quindi verrò con la mia chitarra acustica e il mio chitarrista elettrico. Mi sono inventato questa formula elettroacustica e interpreterò il mio repertorio, quindi sarò qua facendo sia le mie canzoni soliste che quelle che ho scritto per Itimoria, quindi invito tutti il 15 novembre a seguirci. Dopo il bagno di folla di ieri, porto ancora i segni della serata meravigliosa di ieri, grazie Bari. Spero di bissare in una serata più da club, più rock, più tipicamente mia. Ti ringraziamo. Io ringrazio voi del vostro affetto, un bacio a tutti, ciao.